Una finestra spalancata sulle emozioni, emozioni da immortalare, da catturare in uno scatto che vuole raccontare quel momento, la sua unicità, la sua naturalezza. Piero Dorto, fotografo della prestigiosa Nikon School, torna in Nepal. Lo fa per lasciarsi amaliare dai paesaggi, dall'antica cultura di quella terra, dai suoi colori. Lo fa scegliendo di condividere con i nepalesi, insieme al gruppo di appassionati che lo seguirà, la quotidianità, vivendo nelle case della gente del luogo, mangiando e dormendo con loro. Finora i miei viaggi in Nepal erano stati comunque tutti emozionanti. Avevo condiviso delle giornate intere con le famiglie che ci hanno ospitato, ma mai la notte. Quindi questa simbiosi 24 ore su 24 permetterà alle famiglie che ci ospitano di averci proprio in qualità di ospiti e quindi non degli invadenti fotografi e permetterà a noi di realizzare qualcosa di reale, di veramente unico. Non deve esserci invadenza, spiega il professionista. Per rendere uno scatto unico è necessario creare un rapporto di intesa con la persona che desideriamo fotografare. Non succederà mai nei miei viaggi che noi arriviamo muniti di teleobiettivi, ci piazziamo a due centimetri dalla faccia della persona da fotografare e cominciamo a scattare a raffica. Avrei diversi esempi. Una volta in Namibia, ad esempio, siamo stati un'ora e mezza a fotografare delle donne imba che vendevano degli oggettini sulla strada. Nel frattempo sono passati orde di turisti che scendevano dal pulmino, si piazzavano davanti a loro, facevano le loro 30 foto a raffica, risalivano sul pulmino e se ne andavano. Non ho visto i loro risultati fotografici, ho visto i nostri e sicuramente erano di tutto rilievo, ma proprio perché prima di rubare uno scatto abbiamo invece provato a costruire, difficilissimo ovviamente, però a costruire una sorta di complicità fra il fotografo e il soggetto. Stessa cosa succederà in Nepal, la macchina fotografica sarà l'ultima a essere presentata o tirata fuori dagli zaini. Per lasciarsi affascinare dai viaggi di Piero D'Orto, visitate il sito internet www.pierodorto.com